Eccoci. No, grazie, non per me. È ormai affatto. Ma non mangia nulla proprio? No. No. Non ricordo più quando ho mangiato l'ultimo piatto di pasta. Quando avevo 12 anni pensavo che se fossi diventato enorme i miei si sarebbero accorti di me. A un certo punto pesavo 20 kg in più di quanto avrei dovuto. Ma loro continuavano a non guardarmi. Poi mio padre si è messo con una ragazza di 20 anni e mia madre con una donna di 30. Da allora non ho più toccato un piatto di pasta. Deve essere buona col sugo. Una ricetta di nonna? D'ora. Grazie per oggi. E' stato un ottimo finto padre. Ti figuri. Io sono convinto che lei sarà una mamma bravissima. Un taxi in via Farina 5, grazie. Lampo 16. Tre minuti. La mia mamma bravissima. Grazie. Grazie per la visione!